Buonasera, ben ritrovati. Non capita spesso presentare un'opera mai rappresentata a Torino né eseguita peraltro in forma di concerto e quindi affrontiamo un titolo speciale anche perché è uno dei capolavori di uno dei massimi compositori barocchi, quale è Handel. Giudo Cesare è peraltro il titolo, Giudo Cesare in Egitto per completezza, più rappresentato da che il repertorio handeliano si è riaffacciato sulle scene dei teatri nel Novecento e per cui colmiamo, come dire, una casella che sicuramente andava riempita. Sono molto felice che sia tornato per parlarci di quest'opera, Carlo Maier, che come tutti voi sapete ha vissuto con questo teatro come direttore artistico negli anni Novanta ed è proprio a lui che si devono le esecuzioni di alcuni titoli andeliani. Mi riferisco al trionfo del tempo del disinganno e al Tamerlano che vennero fatti sul finire di quella decade e poi ricordo che pochi anni fa nel 2009 abbiamo rappresentato Aci, Galatea e Polifemo in un bellissimo allestimento firmato da Davide Liverman. Per cui Giulio Cesare. Un Giulio Cesare che arriva da Parigi parlando dell'allestimento ma in qualche modo fa un viaggio di ritorno perché se la produzione è stata realizzata lì l'idea al regista Laurent Pellì è venuta proprio qui a Torino, anzi tra queste vie perché tra la statua del Giulio Cesare che sta ai piedi delle porte palatine e il nostro museo egizio è nata l'idea di realizzare un Giulio Cesare in Egitto ambientato in un magazzino di un museo cosa che è nata mentre il regista si trovava qui per la traviata che è inaugurato qualche stagione fa per cui insomma un allestimento parigino ma con Natali torinesi se possiamo dire con un po' di spocchia sabauda. L'allestimento credo peraltro esca per la prima volta dai teatri dell'Opera Nazionale de Paris e vede qui a Torino un cast devo dire strepitoso con Sonia Prina nella parte di Giulio Cesare, Jessica Prati in quella di Cleopatra, Sara Mingardo Cornelia e Mette Beaumont come sesto. Alessandro De Marchi specialista del repertorio dirige l'orchestra del Teatro Regio che ha dato prova alla generale di ieri sera di un'ottima d'utilità e capacità di spostarsi dal repertorio consueto ottocentesco a quello barocco. Carlo Maier che tra le sue incarichi è anche quello di vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani è un grandissimo appassionato di opera barocca per cui come dimostra anche la programmazione che fece qui nelle vesti di direttore artistico. Mai abbastanza, mi censuravo molto, ne avrei fatta molto di più. Speriamo che negli ultimi anni appunto si è ripreso a frequentare Ender e per cui adesso con questa pietra miliare diamo un altro bel segnale. Cedo la parola perché ho rubato anche troppo tempo e quindi grazie Carlo Maier. Prego. Grazie. Dunque, Ender per me è un mondo e devo dire è un amico. È un uomo che credo di conoscere profondamente attraverso i secoli e quindi questa sera dovrò veramente limitarmi a scrivervi una stenografia della conoscenza di Ender. Però vorrei cominciare alcune notizie generali. Prima di tutto, in Italia si scrive ancora Georg Friedrich Ender, il nome con cui lui era nato in Germania, ma in Germania Ender rimase pochissimo. A vent'anni prendeva la strada di Roma dove era noto come Giorgio Federico Ender, scritto H.E. N.D. tra l'altro qualche anno fa ho tenuto a battesimo la società Ender per l'esecuzione dei lavori italiani di Ender che erano gli ultimi a essere conosciuti, trionfo, il tempo del disinganno di cui parlava prima è uno di questi. Per cui Ender che era uno straordinario improvvisatore al clavicembre o all'organo, tutti cascano in ginocchio quando lo sentono suonare. Noi di questa cosa abbiamo solo delle tracce, c'è una passacaglia con 48 variazioni ad esempio che è quello che ci può dare un po' un'idea delle improvvisazioni di Ender. Però ad esempio arriva a Roma e addirittura in ginocchio davanti a lui cade quello che era il massimo stilista dell'epoca, cioè angelo, poi detto arcangelo, corelli, che era quello che aveva portato la perfezione e l'eleganza dell'arcadia in musica. Entra in Italia in un circolo squisito di cardinali delle famiglie nobiliari di tutta Europa che collezionavano arte, incomincia a diventare collezionista d'arte, una cosa che rimane in tutta la vita e in effetti molta della sua musica ha un'ispirazione pittorica diretta. In particolare lui amava Rembrandt, e se voi andate alla Royal Academy a Londra, uno dei più bei Rembrandt che c'è, che è Belshazzar's Feast, il festino di Baldassarre, era un quadro della collezione di Ender, che tra l'altro poi fece un oratorio che si chiamava Belshazzar, ritraendo la scena che aveva nel suo quadro. Dicevo che a Roma aveva vent'anni, appena prima aveva fatto due opere a D'Amburgo e aveva fatto amicizia con un compositore, John Matheson, tedesco nonostante il nome, e a un certo momento succede un episodio che va raccontato. Viene la notizia che a, non mi ricordo se a Danzigano, in un'altra città vicina a Bremer, c'era Buxtehude, il vecchio musicista e organista, che aveva deciso di ritirarsi dai suoi doveri di cantor della chiesa e metteva a disposizione il suo organo e il suo ruolo. Matheson e Handel vanno a piedi a... non riesco a ricordare la città in questo momento, neurone che non risponde, vabbè, comunque una camminata di alcuni giorni da Hamburgo. Quando arrivano, Buxtehude fa chiaro che c'è una clausola inaggirabile in chi voglia subentrare a lui nel posto di primo organista, che è sposare sua figlia. Ora, non c'è rimasto un ritratto della signorina Buxtehude, ma credo che il fatto che senza prendere riposo Handel e Matheson siano ritornati ad Hamburgo, da dove erano venuti, ci dice che non doveva essere una venere. Detto questo, abbiamo lasciato Handel a Roma. A Roma ci sta per tre anni, poi fa una scappata a Napoli, una scappata a Bologna, a Firenze, scusate, e poi finisce con un'opera che per certi versi è l'ultima opera del Seicento Veneziano, la Grippina, fatta al Teatro Grimani, opera splendida e vastissima, e lì lui si familiarizza con quella che era stata la città che in realtà più di qualunque altra aveva creato l'opera. Cioè l'opera diventa veramente opera quando nel 1637 si aprono i teatri pubblici a Venezia e l'opera incomincia a diventare un modello economico, operativo. La prima compagnia fa fallimento due anni dopo, tanto per dire come era necessario prendersi misure. Ma da evento per VIP diventa una cosa fruibile e circolabile. Da Venezia, peraltro, Handel parte con un baule pieno di spartiti, o partiture, anzi meglio partiture, e libretti secenteschi italiani che poi continuerà a consultare e va a Londra. A Londra arriva appena prima che arrivi la dinastia Hanover, che è ancora quella sostanzialmente regnante oggi, e ai tempi della regina Han. Nel 1711 fa una prima opera che è Rinaldo, che è il più bel biglietto da visita che probabilmente un compositore abbia fatto, dove mette insieme tutti i pezzi musicali più brillanti della sua stagione italiana e insieme con un drammaturgo inglese costruiscono quest'opera che è praticamente, se vogliamo, un antenato del musical, come erano già le opere di Purcell prima. Però è fatto su numeri che sono contemporaneamente musicali, vocali e teatrali e incomincia a imporre a Londra, che fino ad allora aveva visto abbastanza poca opera, quello che io considero una specie di corso di formazione culturale al pubblico di che cosa sia l'opera. Per cui vediamo che rapidamente i soggetti che seguono Rinaldo sono tutte tappe abbastanza fondamentali della storia dell'opera, per cui c'è Teseo che è su un libretto di Lully, perché l'influenza dell'opera francese in Heidel è abbastanza avvertibile, c'è il pastor Fido che rende conto di tutte le opere pastorali secentesche che avevano seguito l'Orfeo e tutto questo, cerchiamo di immaginarci che cos'era questo pubblico, era un pubblico di gentiluomini e gentildonne raffinate, quelli che in quegli stessi anni avevano inventato il Grand Tour, cioè il viaggio per cui si viaggiava, si attraversava la Francia, la Svizzera, si arrivava in Italia e si approdava a comprare antichità nel negozio di Piranesi piuttosto che negli antiquari di Ercolano e Pompei appena in via ancora di scoprimento. E tra l'altro parallela alla carriera di Heidel come compositore ad esempio si apre The Society of Dilettanti che diventa la prima base del British Museum, tutte le istituzioni culturali moderne londinesi. Quando lui nel 1936 fa Cersei su un libretto che era stato già di Francesco Cavalli, questo coincide con l'inaugurazione di Vauxhall Gardens che è il primo giardino di intrattenimento che viene fatto a Londra. Quindi tutta la carriera di Heidel noi dobbiamo sempre vederla in risposta a una società molto ricca, molto cosmopolita, probabilmente la più ricca società d'Europa, di gente dai gusti assolutamente raffinati e squisiti che poi passava la società, parte della stagione voglio dire in città e poi invece passava altrettanto tempo nelle splendide dimore di Campania. Peraltro uno dei primi protettori di Heidel che si rivolge a lui con le lettere di presentazione fatigli a Roma è Lord Buckingham che è quello che ha costruito Buckingham Palace, oggi residenza londinese di sua maestà britannica. Heidel poi diventa anche impresario di se stesso nel senso che vende, allora dicevo immaginiamoci, opera in italiano davanti a un pubblico inglese su soggetti che spesso sono opere ancora del 600 perché il gusto in continente nel frattempo si stava muovendo. Questa è una cosa che solo negli ultimi anni man mano che siamo andati ridiscoprendo tutti i compositori del 6-700 ci siamo resi conto che Heidel non è l'archetipo dell'opera seria, sarebbe sbagliato giudicare che Heidel sia la forma più normale, diciamo non è il cinema americano dell'epoca Heidel, è il cinema tedesco o francese, non è quello che dà la norma generale e in questo appunto risponde al gusto dell'epoca e del luogo contemporaneamente mantenendo uno stile internazionale perché questo è importante capirlo. L'italiano rimane vivo lingua internazionale fino circa al 1750, convenzionalmente si considera che il segno del declino dell'italiano come lingua internazionale si è dato quando Maria Teresa ad Austria incomincia a scrivere alle figlie non più in italiano ma in francese e il motivo per cui tra l'altro era rimasto fino ad allora l'italiano come lingua diplomatica era che era la lingua della comunicazione diplomatica con la sublime porta cioè con l'impero ottomano. Tutti i dragomanni i traduttori parlavano italiano e turco. Quindi l'italiano che si cantava però ecco in Heidel c'è una cosa molto interessante. Di solito noterete che gli abbellimenti nelle aree di Heidel sono sulle parole che più facilmente gli spettatori inglesi potevano capire. E qui passo a descrivere un attimo le opere di Heidel. Le opere di Heidel seguono quella che viene chiamata oggi opera seria, termine improprio, all'epoca si diceva dramma per musica. Dramma per musica era in tre atti di carattere tragico e costruito su una formula sostanzialmente invariabile, nel senso che c'era un'ouverture recitativo secco cioè accompagnato da clavicembalo, violone, contrabbasso, tiorba e poi c'era l'aria che invariabilmente era strutturata a b a cioè c'era una prima parte veloce ad esempio la seconda allora era lenta e la terza era veloce e la terza parte era la ripetizione con variazioni della prima. Poi in realtà vedremo che era una regola un po' fantasmatica per cui potevano esserci le ariette senza da capo, Heidel sempre di più mescolerà gli a e i b delle sue aree soprattutto negli oratori però era un riferimento generale e dobbiamo anche pensare che erano epoche dove non c'erano i dischi o i video per rivedere le cose quindi quella melodia che voi ascoltavate con infinito piacere potevate ascoltarla ricantata dal cantante. Poi nel nostro secolo noi ci siamo lasciati incantare prima della pirotecnia vocale e penso io stesso avevo un'enorme ammirazione ad esempio per Marilyn Horne o John Sutherland quando hanno incominciato a cantare questo repertorio. Poi con gli anni mi sono reso conto che però in questi interpreti veniva un po' meno l'attenzione a quella che era la parola perché l'opera serie è una figlia delle opere di Monteverdi era ancora il dramma per musica quindi queste aree ogni volta che ci ripetono e ce lo ripetono come un cavallino che gira della giostra la stessa parola però ogni volta musicalmente la prendono da un'altra angolazione è come se noi avessimo un bellissimo oggetto tridimensionale e ogni volta lo cogliamo con un taglio di luce diverso sono come meditazioni interpretazioni poetiche musicali. In questo c'è un episodio bellissimo di Handel. Handel è finito l'epoca delle opere siamo negli anni 40 e ha un suo librettista degli oratori che abita abbastanza lontano da casa sua. Una notte il librettista ha una casa a due piani sente battere imperiosamente alla porta di legno è tipo mezzanotte allora apre con la lucerna e con la berretta da notte la finestra e trova Handel in carrozza che dice ha what does pillow mean perché Handel parlava con accento molto tedesco parlava cinque lingue ma tutte in tedesco Handel e dice cosa vuol dire pillow e allora il librettista mezzo addormentato dice vuol dire onde oh thank you very much good night perché stava componendo un verso dove c'era la parola below e non sapeva che analogo musicale trovare a una parola che non conosceva. Questo è significativo. Poi se voi volete la casa editrice torinese Editi ad esempio ha pubblicato mi sembra le memorie di Mannering scritto Mainwaring che è stato uno dei primi biografi poi ci sono i libri di Bernie c'era una nobile gara ad esempio tra i londinesi nel rendere graficamente come parlava Handel con il suo accento tetesco va bene allora mezzo a 25 minuti vorrei ancora dirvi tante cose di Handel era un uomo adorabile però non bisognava farlo arrabbiare quando ad esempio Faustina Bordoni moglie del grande Hass arrivò a fare la diva a Londra e si rifiutò di cantare un'aria che lui aveva scritto per lui lui la prese la pese fuori dalla finestra tenendo la sospesa e dice mia fefa notetto che lei era una grande tiafolessa ma tefe sapere che lei è arrivata in casa di grande demonio pelsepù e a questo punto la riprese e lei cantò l'aria tra l'altro bellissima caro oggetto dell'ottone. Adesso vi faccio vedere qualche pezzo del Giulio Cesare. Giulio Cesare è un'opera della fine del Seicento fu fatta da Sartorio Antonio Sartorio grande compositore dell'ultima fase iniziale dell'opera veneziana e quindi ha dovuto essere riaccomodata secondo i principi allora prevalenti dell'aria per musiche in aria però come dire sono due strutture che cigolano una contro l'altra c'è ancora dietro la struttura originale dell'opera del Seicento e in qualche momento questo tessuto affiora per cui c'è un numero superiore di duetti o di ariette di quante normalmente non necessarie in un'opera addirittura in certi casi l'aria viene interrotta da recitativi. Per non farvi vedere l'arrestimento di Parigi ho scelto di mostrarvi uno che io ho trovato adorabile fatto da David McVicar e William Christie a Glyndebourne e la prima scena che vediamo è il biglietto da visita di Cleopatra. Cleopatra nel primo atto non si presenta come Cleopatra ma si presenta come adesso mi viene in mente il nome? Lidia. Lidia ecco Lidia una ancella di Cleopatra e allora come dire c'è tutto il gusto per la regina di fare la sbarazzina e non rivelare il suo lato più maestoso. Vedete qui che cosa fa Daniel De Lise in questa scena. Questo è il tono di Handel cioè questa interpretazione dove abbiamo imparato tutte le cose che si possono fare con un ombrello rivela il giusto registro per fare Handel cioè l'opera seria di Handel non è il dramma tedesco pesantissimo e qui devo aprire una parentesi. Le opere di Handel sono l'ultima serata handeliana nel settecento fu il 1756 giornata piovosa. Dopodiché per rivedere un'opera di Handel bisognerà aspettare non ricordo se il 22 il 23 o 24 dove a Göttingen si fa un festival Handel e si tira fuori però si tirano fuori le opere di Handel e si adattano al gusto prevalente tedesco dell'epoca per cui l'idea oibò che un castrato o non c'erano più già da quei tempi ma un mezzo soprano vestito da uomo cantasse la parte di Giulio Cesare per il mondo tedesco di allora era assolutamente inconcepibile. Quindi queste opere erano tagliate, si toglievano i dacapi, si eseguivano a metà della velocità in cui si sarebbero eseguite e solo attraverso gli anni e gradualmente, questo è un concetto che è difficile da capire, le opere hanno bisogno di essere vissute, sono come i vestiti. Lord Bromel non metteva mai i vestiti per la prima volta, li faceva portare al cameriere. Anche con le opere bisogna fare così. Bisogna cominciare a rifarle e pian piano si trova il gusto, i tempi giusti, si capiscono le profondità del testo. Se voi pensate ad esempio nel nostro secolo abbiamo un esempio illustre che è quello di Così fan tutte. Così fan tutte non era stata eseguita nell'Ottocento, l'aveva ripresa prima Reinaldo Hahn a Parigi e poi Bush a Glyndebourne proprio, ma ci abbiamo messo degli anni a capire tutto quello che voleva dire e come si faceva. Oggi rischia di diventare più popolare addirittura di Don Giovanni, ma vent'anni fa non era ancora così. E quindi anche queste opere hanno bisogno, come direbbero a Roma, di prendere aria, rianimarsi, riossigenarsi e gradualmente, man mano che gli interpreti trovano i registri giusti, ridiventare completamente vive. Questo processo adesso per Handel è ampiamente successo. Naturalmente poi ci sono opere che abbiamo capito completamente e altre che capiamo meno. Giulio Cesare oramai è l'opera di Handel più eseguita oggi nei teatri mondiali e si può dire che ha raggiunto la dignità completa di classico. Vorrei farvi vedere ancora, perché il tempo è tiranno, però insomma c'è ancora un po' di tempo, vorrei adesso farvi vedere un'altra scena, sempre di Cleopatra. Siamo all'inizio del secondo atto. Cesare si è installato e ha appena incontrato questa Lidia che lo stuzzica assai e Lidia decide, lo invita a un numero dove... però visto che no, c'è tempo. Diversamente da quello che ho chiesto, chiederei di partire dalla traccia 1, perché questa è un'altra convenzione dell'opera seria, l'area del sorbetto, che era la prima area del secondo atto. Si diceva che era l'area del sorbetto perché la gente non gli faceva molto caso e prendeva il gelato durante questo. Allora, vedete in questo allestimento l'area del sorbetto, che è l'area poi dell'Eunuco che abbiamo visto prima di Nireno, fatto tra l'altro dal primo contratenore marocchino che sia mai esistito, che è questo simpaticissimo signore, e vedete cosa può diventare in un grande allestimento l'area del sorbetto. Questo contratenore con tutto l'affetto ha un po' la voce di Nonna Papera, però è talmente bravo ed è talmente giusto il personaggio che alla fine porta più che a casa la pelle e rende un punto drammaturgicamente secondario del lavoro un momento di entertainment. L'opera seria del Settecento è questo. Se voi leggete i giornali, si continua a leggere ancora ogni volta che fanno un'opera, dice la solita sfilata di aria in costume. Ma questa è veramente una visione vetrinistica di questa musica, c'è molto di più in questo. C'è una cultura, è quello che dicevo prima, è il continuare a guardare in maniera incantata ed estetica degli oggetti, divertendosi, provando emozioni, con una drammaturgia che certo non è quella delle opere dell'Ottocento, del romanticismo o quelle del Novecento, ma non per questo è priva di una drammaturgia. La scena successiva che vediamo ci mostra Handel al suo very best, al suo meglio assoluto. Dicevo, Lydia, l'abbiamo visto prima, decide di fare questo spettacolo e si presenta a Giove nelle vesti di Venere che scende dal Monte Parnaso. Qui il regista McVicar ha avuto una bella idea, fa questa specie di spettacolo anglo-ottomano che di viale, dove ricorda l'episodio plutarcheo di Cleopatra che si presenta davanti a Cesare srotolata in un tappeto ed è l'aria in cui Cleopatra sbaraglia Cesare e lo seduce definitivamente. È complessa strutturalmente perché ha un'orchestra in scena e l'orchestra grande in buca. Queste due dialogano e voi sentirete come l'orchestra in buca non faccia altro che gradualmente riempire le fiamme del desiderio di Cesare man mano che si sviluppa la scena. Oltretutto c'è una frase meravigliosa è quando con abisso di luce scesero i numi in terra, dice Giulio Cesare. Il che ci fa vedere che è proprio un libretto del Seicento perché questa è la lingua del barocco seicentesco italiano, è la lingua di Marino o di Chiebrera, non è la lingua del Settecento italiano. Però è questa enorme memoria di un teatro barocco con questa scena di teatro nel teatro che andiamo a vedere. Quello che è fondamentale è la varietà e la bellezza timbrica di quello che fa Handel. Per me ci sono tre compositori in terra che mi danno un'immediata sensazione di lusso. Il primo è Handel, il secondo è Tchaikovsky e il terzo è Ravel. Appena si sentono questi tre compositori basta un accordo che immediatamente ci si sente trasportati in un mondo superiore per dirla con Baudelaire di luxe, calme e volupte. E naturalmente in questa scena, con questo gioco, avete sentito questa dinamica delle vampate, come un mare che avanza e si ritira sulla costruzione dell'aria. Handel raggiunge un momento veramente altissimo. Uno dei principi per reggere un teatro fatto così di aria era naturalmente quello della varietà e l'episodio che immediatamente segue questo è proprio un'eccellente dimostrazione di come venisse applicato dai grandi compositori dell'epoca questo principio di varietà. Handel non si era mai fatto un riguardo, e questo la musicologia tedesca l'ha castigato molto severamente per averlo fatto, non si era mai fatto un riguardo, dicevo, di usare materiali propri o altrui tratti da altre opere per le sue opere. Devo dire che era un principio che era, è vero, ad esempio ci sono pagine di Giulio Cesare che vengono dal periodo soprattutto romano, ma queste ricreazioni non sono mai banali. Ad esempio ce n'è una molto famosa che incomincia con l'Almira, l'unica opera che ci è rimasta del suo epoca giovanile di Hamburgo, che era un'opera di soggetto spagnolo, c'era un balletto, e in questo balletto lui scrisse una sarabanda, che era una tipica danza spagnola. Poi questa sarabanda viene riutilizzata nel trionfo del tempo e del disinganno e diventa un'aria con breve recitativo, lascia la spina, cogli la rosa. Immediatamente dopo, a Londra, nell'Undici, nell'Orinaldo, questa con un recitativo più ampio diventa un'aria oggi ridiventata celebre, che lascia chi o pianga. Ma poi il tema di quella sarabanda continuerà a percorrere la musica di Hendel e in tutte le suite per clavicembrano, fino a quella impressionante fatta per Princess Charlotte, che è l'ultima suite per clavicembrano, continua a trasformarsi nella materia musicale di Hendel, proprio per questo principio che ogni volta è l'osservazione di un materiale musicale da un'altra angolazione. Faccio questa premessa perché anche la scena che segue di Giulio Cesare in realtà è un riarrangiamento di una delle tantissime cantate scritte per l'epoca romana. A Roma Hendel girava nel giro, vi dicevo, di questi ricchi cardinali, particolarmente il cardinale Panfili, che aveva due castrati virtuosi nella propria orchestra, che peraltro era diretta da Corelli. La cantata originalmente era stata scritta per uno di questi due castrati. L'imitazione degli uccelli era una cosa che nel canto ancora è rimasta, si dice che una persona canta come un usignolo, però era qualcosa che al 600 e al 700 aveva particolarmente dato motivo di attrazione. E qui è una grande aria con violino obbligato. Vedrete la violinista che sembra un giovane Fritz Kreisler, è una brava violinista barocca polacca. E c'è questa immensa aria di paragone dove Cesare, che aspetta di incontrare Cleopatra, la paragona a un uccello che canta infiorito a meno prato invitando il compagno ad avvicinarsi. Che ve ne pare? Vedete che non serve a volte un'orchestra da 200 strumentisti per ottenere grande teatro e grandi effetti. Basta il suono esile di un violino che si annoda intorno a un gorgheggio per creare questo splendore ellenistico di questo Giulio Cesare che canta d'amore come in un basso rilievo. E vorrei arrivare al momento finalmente dove scocca la scintilla definitiva tra Cesare e Cleopatra. Perché in fondo questa è una grande storia d'amore che ha attraversato i tempi. Cleopatra VII era, voi sapete ce n'erano state sei prima di lei. Lei era, come dire, la versione Cleopatra.7, per così dire. E personaggio che io ho sempre trovato assolutamente affascinante. Non so se sapete che lei ha avuto una figlia che gli ha sopravvissuta che era Cleopatra Selene che arrivò a diventare regina di Numidia. Io molti anni fa sono riuscito ad andare a vedere in Algeria la tomba, il mausoleo che è l'unica tomba di un tolomeo di un tolemaico che ci sia rimasta dove era andata Cleopatra Selene. Tutto questo si ascoltava anni fa in esecuzioni dove non si era ritrovata questa pratica. Adesso oramai esistono due o tre generazioni di interpreti che pian piano hanno ridato senso a questo. E di colpo, vedere questo, credo per tutti e anche alcuni di voi, immagino che non lo conoscessero semplicemente questo repertorio, però credo di potervi aver offerto una strada per entrarci che poi è l'unico motivo, secondo me, per cui andiamo a teatro, che non è quello della cultura ma è quello del divertimento, dell'emozione, dei nostri sentimenti, del nostro gusto estetico. Io veramente ho... Ogni volta che si parla in Italia di cultura mi si arrotolano le calze per l'inanità e la maniera noiosa da bidelli del liceo classico con cui si presenta la cultura. La cultura è una modalità, cioè noi possiamo essere colti anche ordinando la pizza al bar. Non è quello il problema. Il problema è vivere la nostra tradizione o quella degli inglesi, perché veramente... Ecco, volevo dire, in Italia continuano a chiamarlo Georg Friedrich Handel, ma lui nel 1637 con un decreto che costituisce... Voi sapete che l'Inghilterra non ha ancora una costituzione ed è basata sul diritto consuetudinario. L'atto con cui fu naturalizzato Handel è tuttora nei grandi precedenti della legislazione inglese che fu fatto da Giorgio III. Per cui lui diventò George Friedrich Handel, il signor Maniglia sarebbe in inglese, senza umlaut e io trovo giusto rispettare che lui poi da allora fino a quando è morto ha continuato a firmarsi così, sempre con il suo accento tedesco insopportabile, ma si sentiva inglese a tutti gli effetti. Tra l'altro, bellissimo altro episodio, c'era un tenore che stava facendo una prova e Handel, vi ho detto, era uno straordinario esecutore e stava... a quei tempi non c'era il direttore d'orchestra, si dirigeva o dal violino o dal cembero. E Handel stava facendo delle belle variazioni. Allora il tenore dice se non la smette di fare quegli abbellimenti, io salto sul suo clavicembero. e lui lo faccia pure, signore, ma me lo tica prima che lo metto nel manifesto, perché sicuramente la gente sarà più interessata a fettere lei zompare che lei ascoltare e lei cantare. guardate, scopritelo a Handel perché è veramente una gioia dell'anima quella persona. Tra l'altro adorava i prosciutti e la birra e ne aveva sempre una ghiotta scorta per cui era anche come dire un uomo alla fine poverino e poi naturalmente ha sofferto anche di gotta. La cosa triste e tragica della sua vita che bisogna sempre stare attenti ai medici pensate che lo stesso chirurgo ha buggerato sia Johann Sebastian Bach che George Frederick Handel perché faceva questa terapia degli occhi che era uno scalpellamento della cornea che portava un immediato vantaggio ma poi lasciava ciechi. Ed è in Handel c'è un momento quando lui incomincia a perdere la vista fa Samson Sansone e c'è questo momento in cui Sansone che viene poi dal testo Samson Agonist di Milton in cui Sansone è nelle catene e a un certo momento grida total eclipse eclipse totale e in quel momento Handel sta come dire condannandosi alla cecità. Alla fine gli ultimi oratori lui oramai li doveva dettare un assistente perché era rimasto completamente cieco. Quindi purtroppo la fine di Handel non è bella come l'inizio. Poi era anche come tutti gli uomini d'arte soggetto al capriccio al passaggio delle mode a un certo momento fa uno degli ultimi oratori meraviglioso Theodora e di cui si fanno solo tre recite in tutta la storia dell'esecuzione di Theodora nel settecento e arriva un damerino inglese che dice oh caro Handel ma perché fa questi nuovi oratori ma lei faccia sempre messaia con quel bel alleluia con tutti i tamburi e le trombe che ci piace molto e lui dice ma che cosa stupida messaia quella è la cosa più facile l'alleluia ma voi inglesi ascoltate sempre tamburi e trombe voi siete contenti perché siete militari ma qui c'è vera musica infatti poi incontra poco dopo il giovane Gluck molto prima della riforma cosiddetta di Gluck e Calzabigi che va a Londra a fare una cantata alla caduta degli dei e dice mio caro se lei vuole avere successo qui in Inghilterra lei metta molti tamburi e molte trombe poi a parte disse veramente questo giovane Gluck capisce meno di contrapunto che il mio cuoco e così questo è una delle caratteristiche questo ascolto che noi facciamo è l'aria di tempesta di Cleopatra l'aria di tempesta era un altro genere dell'opera seria cioè ci si paragonava son qual nave in ria procella ad esempio c'era una famosa aria di metastasio per cui dice sono come una nave nella cattiva tempesta sbalzata di qui e di là l'aria di Cleopatra in questo caso è da tempeste il legno infranto il legno inteso come nave se poi salvo giunge in porto non sa più che desiar e lo fa con un ritmo che è un hornpipe lo hornpipe è la danza dei marinai che è quella anche di braccio di ferro se vi ricordate la musica è sempre un hornpipe e qui dato che appunto l'aria è marinaresca e c'è questo successo marittimo perché hanno vinto una battaglia marittima appena prima Cleopatra fa la sua area di tempesta su un hornpipe vediamo se ci siamo già arrivati è preceduto però è il momento prima lei sta per essere ammazzata da Ptolomeo e poi arriva Giulio Cesare la libera e lei dà in gioia credo di aver usato della vostra pazienza abbastanza ma spero di avervi fatto venire oltre che dell'aperitivo l'appetito di conoscere meglio Endel per cui l'anno prossimo se mi rinvitano vi interrogo d'accordo e grazie mille e un saluto vi ringrazio tanto è sempre un piacere stare con voi un saluto particolare che qui in sala al nuovo direttore artistico del Teatro Reggio di Torino Gaston Furnier Fassio con cui prendevamo la minestra ancora negli anni settanta nella lontana Montepulciano grazie Carlo Maier hai firmato la tua condanna sarai invitato anche l'anno prossimo trattiamo noi invece ci vediamo il 10 dicembre per i balletti di Cuba da non perdere grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille